Salve oggi parliamo degli ossi acidi e vediamo di fare un po' di chiarezza per quanto riguarda i prefissi meta orto e piro nella comune diciamo letteratura quello che portano generalmente i testi i prefissi derivano quando facciamo reagire un anidride con una mole di acqua otteniamo un composto meta se facciamo reagire con due molecole di acqua un composto piro se facciamo reagire con tre moli di acqua otteniamo un composto orto questo modo di procedere non è esatto in quanto vale soltanto per alcuni non metalli come il il fosforo l'arsenico l'antimonio il boro e il silicio per tutti gli altri questa regola non è applicabile per cui a scanso diciamo di equivoci o di potenziali errori andiamo ad applicare questo questa tabella che rappresenta un po' la nomenclatura classica tradizionale e cioè il concetto di orto di piro e meta avevano nell'antichità un significato il significato era questo che orto era quello giusto cioè orto voleva dire che l'atomo centrale veniva idratato veniva si poteva legare con i gruppi ossidrilici completamente se poi a questo orto io andavo a togliere una molecola di acqua ottenevo il composto meta che segue se invece andavo a condensare due orto in presenza di calore ottenevo il piro il cui termine dal greco è fuoco quindi utilizzeremo questo metodo ora vediamo di fare i primi esempi nella speranza di non commettere errori nel momento in cui scriviamo perché sono tante le formule il primo composto il primo elemento che prendiamo è il fosforo con stato di ossidazione più 3 quindi partendo l'anidride fosforosa più acqua mi dà come sempre abbiamo visto H2P2O3O4 che andando a semplificare mi dà 2DHP2O2 quindi diventa l'acido meta fosforoso quindi che faccio adesso io vado a idratare l'acido meta fosforoso più una mole di acqua e otterrò H3PO3 cioè l'acido orto fosforoso cioè quello giusto come ottengo il piro il piro lo ottengo facendo condensare due moli di acido orto fosforoso ottenendo il seguente composto che andando a disidratare cioè andiamo a togliere una mole di acqua quindi due idrogeni e un ossigeno otterremo H4P2O5 che è l'acido piro fosforoso bene adesso vediamo l'anidride fosforica con stato di ossidazione più 5 in questo caso faremo le stesse cose che abbiamo fatto in precedenza quindi P2O5 solamente in questo caso la desidenza sarà ICO più acqua quindi più 5 otterrò il seguente composto che andando a semplificare darà origine a due moli di acido meta fosforico facendo reagire l'acido meta fosforico con una mole di acqua otterremo e otterremo una mole di acido orto fosforico che poi l'acido fosforico è semplicemente detto bene a questo punto come ci regoleremo quindi facendo condensare due moli di acido orto fosforico quindi per condensazione avremo H6P2O8 andando a disidratare quindi meno H2O otterremo il seguente composto H4P2O7 che sarà l'acido piro fosforico benissimo adesso facciamo e prendiamo un esempio il boro il boro può ha stato di ossidazione più 3 quindi è un valore fisso quindi il boro con più 3 sarà dato da B2O3 procediamo nello stesso modo e otterremo H2B2O4 che andando a semplificare due moli di HBO2 questo caso si chiara si chiamerà acido metabolico facendo reagire l'acido metabolico più una mole di acqua otterremo il famoso acido metabolico che poi viene chiamato l'acido borico generalmente anche qui procedendo nello stesso modo facendo condensare facendo condensare quindi due moli di acido orto borico otterremo H6B2O6 andando a disidratare quindi meno acqua otterremo H4B2O4 e quindi questo è l'acido piro borico chiaramente queste semplificazioni sono semplificazioni dettate dalle conoscenze perché in realtà non è tanto ortodosso andare a semplificare i pedici di una molecola ma l'esperienza degli anni ha dimostrato che è possibile teoricamente semplificare anche se tecnicamente non è corretto nella prossima lezione vedremo altri due composti l'arsenico e il silicio e vedremo come si comporteranno spero che questa lezione vi sia piaciuta iscrivetevi al mio canale o schiacciate un like QUI ULTI